Analizziamo le ragioni del Sì al referendum con il nostro ospite. Do il benvenuto a Giovanni Guzzetta, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Roma Torvergata e coordinatore del Comitato Insieme Si Cambia. Grazie per aver accettato l'invito di Euronews. Grazie a voi e buongiorno. Qual è la ragione principale del suo Sì? La ragione principale è che questa è una riforma di manutenzione straordinaria di una costituzione molto bella ma che ha alcune parti che sono datate. Sono datate perché quando fu scritta era condizionata da un contesto storico molto particolare, un conflitto molto forte tra comunismo e anticomunismo e quindi la scelta fu quella di un governo debole in cui la maggioranza non potesse governare se non con l'aiuto dell'opposizione. Si guardava le grandi democrazie come quelle inglese e però non si poteva fare quel passo. Quel passo si può fare oggi. Si tratta di eliminare alcune anomalie che rendono l'Italia un paese totalmente eccentrico rispetto alle grandi democrazie. Purtroppo in Italia tutto diventa oggetto di polemica politica e tutte le campagne tendono ad essere utilizzate dalle forze politiche come se fossero delle campagne elettorali. E spesso il paese ci va di mezzo. Parliamo della riforma del Senato. Diversi giuristi condividono l'eliminazione del bicameralismo paritario ma non il fatto che i cittadini verrebbero di fatto privati del diritto di eleggere i senatori. Non si toglierebbe così la sovranità al popolo come stabilito dal primo articolo della Costituzione? Se fosse vero questo dovremmo dire che la Germania è priva di sovranità, toglie la sovranità al popolo, la Francia toglie la sovranità al popolo, il Canada toglie la sovranità al popolo. In nessun paese al mondo che abbia questa struttura la seconda camera è eletta direttamente quando c'è una forma di governo parlamentare in cui la prima camera dà la fiducia. L'unica eccezione è la Spagna in cui in parte sono eletti direttamente e in parte sono eletti dai consigli provinciali. Ma il modello, quello scelto dalla riforma italiana, è un modello che esiste nel mondo consolidato, in Austria, in Belgio, in Olanda. Non c'è nulla di eversivo e certamente non c'è nulla di antidemocratico. Ci sono insegni costituzionalisti che tuttavia vedono nella riforma un rafforzamento eccessivo dei poteri dell'esecutivo. Alcuni parlano addirittura di un rischio autoritario, di un potere che diventa oligarchico e quindi di una democrazia svuotata. È un timore fondato. Mi sembra difficile vedere un orientamento autoritario in una riforma nella quale il Presidente del Consiglio non può nemmeno revocare i ministri e certamente non può sciogliere il Parlamento. Non so dove la vedono questa deriva autoritaria. Diciamo che in Italia l'argomento della deriva autoritaria è un argomento che va molto forte perché la storia del passato ci dimostra che ci sono stati periodi autoritari e quindi fa molto effetto, crea terrore, crea ansia. Però tutti dimenticano che in Italia l'unico episodio di vera instaurazione di un regime autoritario è stato nel 1922 quando Mussolini poteva conquistare il governo del paese perché le istituzioni dell'epoca erano totalmente incapaci di governare e di essere efficienti. Qual è, secondo lei, se lo intravede, il punto debole di questa riforma? Il punto debole della riforma è che forse non ha fatto qualche passo in più che ci si sarebbe aspettati, però complessivamente questa è una buona riforma. Di questo sono profondamente convinto. Ringrazio il professore di diritto costituzionale Giovanni Guzzetta per essere stato nostro ospite. Grazie e buon proseguimento. Grazie a voi.